Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Nel drammatico caso dei neonati trovati sepolti a traversetolo, una nuova testimone potrebbe mettere in discussione la versione finora immersa. La donna, parlando in anonimato al Tg1, ha rivelato di aver saputo già attorno a Pasqua che Chiara Petrolini, la 22enne ora accusata di omicidio e occultamento di cadavere, fosse incinta. Secondo la testimone, anche Sonia Canrossi, madre del fidanzato di Chiara, sarebbe stata a conoscenza della gravidanza, nonostante abbia sempre negato. La donna ha raccontato di aver udito al bar, dove lavora Canrossi, alcuni clienti parlare della situazione, riferendo che Sonia fosse arrabbiata per il fatto che suo figlio avesse ancora la fidanzata incinta. Questo nuovo elemento solleva dubbi su quanto detto finora, poiché la madre di Samuel aveva assicurato di non essersi mai accorta di nulla. Nel frattempo, Chiara Petrolini ha ammesso di aver ucciso entrambi i neonati trovati sepolti nel giardino di casa sua, con gli inquirenti che ipotizzano abbia agito da sola, senza che il fidanzato o i familiari sospettassero nulla.